E allora, siamo venuti qua, purtroppo, un bel servizio fatto da voi, e certo siamo rieti di vedere questa terra bellissima. Siete contenti? Sì, sì, sempre, sempre. Siamo stati molto soddisfatti. Molto soddisfatti di quello che abbiamo visto. Grazie. Proprio il professore. Il giudizio, come siamo passati la giornata. È stata una giornata stupenda. Grazie. È andata bene la giornata oggi? Benissimo. È stata una bella giornata. L'unica delusione l'ho provata al museo. Mi aspettavo molto di più. Invece per il resto, anzi, considero il muscat. Più bella di Dubai. E più ha dimensioni di uomo. Anche lei? Sì, sì, sì. A posto? Ma perché? Tutto bene. Tutto bene? Ok, grazie signori, grazie mille.